tutta la Giudea e la Samaria, e fino ai confini della Terra. All'Assemblea Giocesana dello scorso 14 settembre, Dom Maurizio Marcheselli, biblista ad Of Ter, ha presentato un'Alessio Divina sul brano degli Atti degli Apostoli, in cui si parla della Pentecoste. Ai nostri microfoni una sintesi del suo intervento. Ci siamo messi in ascolto questa mattina di alcuni passaggi del libro degli Atti degli Apostoli, tre piccoli brani collegati tra di loro. Perché andiamo alla scrittura? Perché torniamo alla scrittura? Ma credo che ci sia una ragione fondamentale che ha un rapporto proprio di fondo con la vita della Chiesa, che è questa, che noi chiediamo alla scrittura delle categorie per comprendere il reale. Abbiamo bisogno che coloro che ci hanno preceduto nella fede, in particolare la generazione degli Apostoli e dei loro collaboratori, dei loro primi successori, ci comunichi, ci trasmetta delle immagini, dei simboli, delle categorie, dei concetti, per comprendere la realtà che viviamo. E credo che sia stato un po' questo, anche l'esperienza di questa mattina, perché le prime pagine degli Atti degli Apostoli hanno sicuramente ancora qualche cosa da dire per illuminare il tempo che viviamo, che come dice ripetutamente Papa Francesco, non è semplicemente un'epoca di cambiamenti, ma è davvero un cambiamento d'epoca. E così, credo che Luca, autore degli Atti, ci abbia consegnato alcune di queste chiavi di lettura del reale, dicendoci, per esempio, che la comunità dei credenti è una comunità incamminata verso l'estremo della terra, ma questo estremo non è un luogo, l'estremo della terra non è un posto, non è una città. Infatti lui usa l'espressione verso l'estremo della terra. La Chiesa è un popolo in cammino verso. Non deve immaginare una meta da raggiungere, ma un cammino da mantenere vivo. E poi credo anche un altro elemento importante, senza qui avere la necessità di dire tutto, un altro elemento importante è la preoccupazione che Luca, autore degli Atti, ci mostra, di sottolineare la continuità profonda che c'è nella vicenda cristiana, nella vicenda del popolo di Dio. La novità che ci avvolge è evidente, sotto i nostri occhi ci sciocca, ci sconvolge. Di fronte a questa novità, in cui siamo ormai pienamente immersi, appunto un cambiamento d'epoca, è importante riuscire a cogliere, abbiamo bisogno di qualcuno che lo faccia, dobbiamo impegnarci noi stessi, ciascuno a farlo, a cogliere gli elementi di continuità. Non si procede per cesure, tagliando le radici, ma soltanto potendo mantenere un rapporto vitale con la vicenda che ci ha preceduto.